Infatti si vede come risolvete i problemi, no? Volete insediare i profughi, i palazzi e le secondo case, mentre abbiamo gli italiani che vivono nelle proprie macchine, no? Non ho mai visto una campagna dei politici di adesso che aiutano gli italiani. Gli italiani li mettiamo nelle tende e li mettiamo nelle macchine, gli estracomunitari li mettiamo negli hotel. Ricordatevi che i nostri, quando hanno immigrato in America e in Argentina, non c'erano gli hotel e gli ostelli che li accoglievano. Si sono fatti il culo per poter prendere una casa e lavoro. Allora, io non sono un razzista, sono i nostri politici e i politici li portano qui, guadagnano e dietro c'è un business. E poi li abbandonano e li mettono a casa. E questo non è un'accoglienza, questo è un schifo.